bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video, io sono Xyuder, allora ragazzi siamo con lo squadrone della morte, mi viene da ridere perché questa è la decima volta che proviamo a fare questo video ragazzi, allora ragazzi stiamo, abbiamo scoperto anzi Welo e tutti i TNF hanno scoperto una cosa, intanto ringrazio per essere qua a riprovarci Nick 5 Stelle, Aurora, alias Roy, te sei it che fa la sociale, perché fa la sociale? eskere, 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 eskere! allora Aurora, dicci che cosa? dicci un po' , dicci un po' qual'è la novità della serata Aurora dice imprescbral dici una sera Aurora allora bisogna costruire, era una pasta, era una rampa molto alta, una Skybase, per poi andare impicchiato con il carrello In modo da superare il limite della mappa e arrivare alla parte di strada Allora, ragazzi è un incubo, un incubo Doviamo avere da ridere perché non ce la faremo neanche stavolta che ci va male Però ragazzi dobbiamo costruire una mega sky base che dal laboratorio della latrina arrivi fino al limite dei Della mappa dove ci sono, dove ci sono Esatto, esatto, esatto Praticamente l'isola dove eravamo dieci minuti, dieci secondi fa, ecco Esatto ragazzi, l'isola da dove siamo partiti, da dove tutto inizio, tutto a fine Dobbiamo prendere un sacco di materiali per fare la super rampa ed arrivare col carrello e le trappole nuove Grazie Ascarius, ce la facciamo ragazzi, il carrello ce l'ho io Prendo il materiale, non preoccupare La prima cosa ragazzi, su tre l'abbiamo trovata L'abbiamo trovata, la seconda è la concentrazione e la terza è la materiale Seconda sono i materiali, beh certo, certo Ce la facciamo ragazzi, tutto il materiale è possibile Grazie Ascarius, grazie Ragazzi, attenzione ragazzi, attenzione, non posso portare la scuola Sono concentrato, grazie ragazzi Ci siamo i primi militari a fare questa cosa E qui, ancora non ce la dobbiamo fare E qui, ancora non ce la dobbiamo fare Eh, un vado per lei Ok, non c'è nessuno dal laboratorio Ragazzi, una cosa trovata le pende, è una cosa fondamentale per questa sfida Vediamo subito, si sono delle pende Più, c'è una cesta volante Benissimo, andremo a vedere la cesta volante Forza ragazzi, sono duecento di legna, cento, cento quaranta di pietra Vai vai a gogo, ragazzi materiali in questa challenge E' una nuova sfida Allora, Aurora, dici un po', dici un po' Allora, ragazzi, un succo No, Ita, Ita, vieni qui La fonda c'è una storia No, sono a Temio, sono a Temio Ragazzi, siamo messi bene però è perché ho trovato un succo slurp Questo è il terzo Mi fa troppo ridere che vedo, che vedo quest'albero 10.000 volte, sì Ce la facciamo ragazzi, ce la faremo, ce la faremo Scuser, venga qui, Scuser Stato arrivando, lei costruisca, lei costruisca Ce la faremo, ce la faremo Non cincischi, costruisca, costruisca Dai, dai, abbiamo i materiali, ho già 300 Quanti materiali avete? 127 Malissimo, malissimo Malissimo, come malissimo No, no, parma, parma, parma Parmiamo, parmiamo, ragazzi Parmiamo, parmiamo Ce la facciamo Ce la facciamo Più più carrelli che persone Sì, fa Vado a vedere nel cesto Ricordiamo che è una sfida stra stra hard Una sfida difficissima, raga E ricordiamo di nuovo Che uscirà il video con tutti i fail che abbiamo fatto Assolutamente In backstage In backstage Eh, giusto, giusto Allora, dicci un po', dicci un po' Vi ricordiamo un'altra cosa Vi ricordiamo un'altra cosa, ragazzi Ho le bende, ragazzi Perfetto Sì, anch'io ce l'ho le bende Guardi questo 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 looting pesante Eh, ci sono dei materiali Inizio Cosa spacca il camion Non vedo il legno Perfetto Mi siamo attaccati i materiali Nick Vai, corri Vai, vai Aurora Vado Ok, ah, lo preso io per sbaglio Aurora, tieni tutti i materiali Parti a costruire Aspetta, tieni ancora questi Tieni ancora questi Tieni ancora questi Tieni ancora questi Meglio di niente Bravo, Nick Dagli tutto, dagli tutto Da qua Aurora Sempre da qua Allora, ti seguo col carrello Sì, sì Stavolta ci provo io Ok Ci provo Ma c'è anche Edita col carrello No Benissimo Oddio Oddio, arriva lui Vai, vai Tutti e tre, ragazzi Tutti e tre Un tre col carrello Vamo, sta la playa Non vi scontrate Ma siete tutti di sotto No, secondo me Piano, piano, piano Chiano, piano Chiano Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Ce ne ragazzi Le garelle con le Mai viste in vita mia Però Io ho paura di vedere Questo gioco Dietro col carrello Vorrei girarmi Mi piacerebbe Major Io c'ho paura Voglio vedere il replay Voglio vedere il replay Dopo Sì, sì È bellissimo Ragazzi Tenete presente Fast and Furious Su Fortnite E questo ragazzi E questo video Dovreste vedere Dovreste vedere La mia visione Facci passare avanti Cside Cosa? Facci passare avanti abbiamo tre possibilità è vero ragazzi uno alla volta abbiamo anche 10 bene ma non ti perdono ci siamo siamo strane e sto carrello non ha la benzina ok benissimo ma c'era il materiale abbastanza pur che cosa ci sono un cavolo se l'aurore rino come come sta messa lei con i materiali gli ha dati tutti io non ho nulla bene bene io ne ho 250 benissimo benissimo la curva la prendiamo la curva questa è buona ragazzi potremmo essere gli unici in italia i primi a farlo non so già io cosa succede ce la facciamo ragazzi attenzione che studio rino che viene superato da mic 5 stelle attenzione poi a superare non mi toccare dentro ci dobbiamo tutti giù io ti spacco tutto vado vado tranquillo che arriva il cula dietro attenzione il cula posto passaggio attenzione scusa 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 non volevo ce la facciamo ce la facciamo non andare molto avanti attenzione attenzione vai 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 attenzione ci siamo ok ci siamo sembriamo sembriamo tre vecchi ma neanche alla cassa alla cassa tre drogati che stanno andando alla spesa in cielo mi scusi ma è questa la cassa veloce o ita no 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 ita gira titta aspetta che non mi faccio migliorate ragazzi io sto molto vicino ad aurora non scendete dove va lei dove non deve scendere ma stai fermo con quel carrello come si esce aspetta ecco poi si esce allora prendo la slurp allora bene libero ragazzi le trovate non mettete i piedi giù ragazzi attenzione siamo pronti siamo pronti i piedi giù che si fai 3 il primo è xxxxxx che si sfinge 1 vado fange jumping vado attenzione non ti fermi fai vado attenzione c'è la persona non ti fermi non ti fermi vai vado attenzione ce l'abbiamo fatta raga un bel mi piace ragazzi ce l'abbiamo fatta però perdo la salute ma voi mi vedete scusate sì sì ti vedo ti vede il carrello tutto baggato io ce l'abbiamo fatta ragazzi siamo praticamente arrivati alla fine del mondo questa ragazza e non è morto e cade così nell'asolo no attenzione guardano tutte passano poi le cadute di capo dei ragazzi però ce l'abbiamo fatto non ce l'abbiamo rimane rimane in vita ragazzi la barriera è stata infrata abbiamo raggiunto oltre le stelle ragazzi io spero che questo video vi sia finalmente piaciuto un bel mi piace ragazzoli per questo video assurdo un bel mi piace faccate il like raga hashtag rita hashtag ita mi ha spinto passate tutti nel canale di 5 stelle saluto in descrizione ringrazio un vuelo ciao ciao bella raga a continuazione bella ciao 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 Grazie a tutti.